Perchè hai tifato contro aiutesi? Io non ho tifato contro l'Aiuma, l'Aiuma è indifferente, in più la considerazione mia è che l'Aiuma con i suoi soldi sta uccidendo i campionati italiani perché non c'è competizione tra chi si può permettere il lusso di comprare un giocatore quando ne vuole e metterli in campo. L'allenatore lo posso andare a fare pure io? Come si sentono? Tenho tre o quattro squadre. Questi del Piemonte, come si sente? L'italiano o più piemontese? Si sente il piemontese o l'italiano? Non l'italiano? Non l'italiano? Non l'italiano? Non l'italiano? Non l'italiano? Contantissimo! Sono tifosi del real. Quando non gioca in Napoli, sono tifosi del real. Ora, un real metri è ugualmente. Esatto. Se dice vincere il medio, a chi hai vincuto? Il medio. Va bene. No, ma io sto mandando che... Ci ascoltate, si poteva pure 1000 euro in casa, basta che veniva e mangiava un'altra partita. Un baciolone aereo, non caccia la bandiera. Allora, la Juve non ce l'ha fatto più nel secondo tempo, si è cagato sotto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS